il sole sul lago ghiacciato baselga de pinet anche bello bellissimo siamo qua sopra il bar c'è la passarella guarda che bello guarda che bello la passarella qui sul lago ghiacciato d'estate fanno il bagno e poi a fine gennaio vanno a fare come si chiama con i pattini guarda che bello e ci sono tutte le anacrotterocole che camminano sul ghiaccio baselga de pinet trentino viaggia con me vedollo val di fassa dolomiti funivia val di fassa funivia arrivando andiamo sulla montagna siamo qua salita sulla funivia col rodella sale molto rapidamente ci abbiamo cannazei qua sotto tutto il paesello di cannazei siamo sulla val di fassa guardate che bello come sale bene ogni tanto fa un po' tipo d'ondolo molto bello c'è già tutta la neve sulle montagne molto bello grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti questa qui può tenere 120 persone questa fornivia qua questa fornivia questa fornivia è un po' ecco una bella dondolata è un po' spettacolo siamo venuti su con la fornivia dolomiti super sky e guardate che roba qui guardate che roba panoramic guardate che roba siamo qua sopra le dolomiti guardate che spettacolo è sotto 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 Vai, 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 i dolomiti qua tutti che sciano che se la divertono guardate che bello, guardate che bello, dove siamo, guardate dove siamo e noi abbiamo fatto assalire. Bellissimo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!